Una riunione necessaria e indispensabile per poter procedere fin da subito all'unisono su un obiettivo che è un obiettivo comune, un intero comprensorio che ricordiamo riguarda tre province la provincia di Foggia, la provincia di Benevento e la provincia di Avellino e che ha come perno centrale la stazione Irpinia con tutte le implicazioni e quindi con tutti i benefici di carattere economico e sociale che poi ne conseguiranno. Entro gennaio 2026 l'Irpinia dovrebbe essere attraversata dal primo treno se dopo questa data l'opera non sarà compiuta scatterà una sanzione giornaliera. I lavori dell'alta capacità intanto vanno avanti e il sindaco di Ariano ha voluto fare il punto della situazione insieme ai comuni di Savignano, Greci, Montaguto, Montecalvo e Villanova. Il primo incontro nella sala consigliare del comune di Ariano per ragionare su un progetto di riammaiamento infrastrutturale che ha come perno la stazione Irpinia si è svolto infatti con i sindaci a nord-est del Tricolle. Poi toccherà i primi cittadini della Valle Ufita. L'infrastruttura unisce dunque i comuni che rientrano nel terzo e quarto lotto con Ariano Capofila. L'unità di intenti resta fondamentale per tutti i primi cittadini ma bisogna intercettare i fondi a partire da quelli strutturali aggiuntivi che la regione metterà a disposizione perché ci si possa interconnettere con la stazione. Ariano ha assunto un ruolo importante non fosse altro per l'estensione territoriale insomma per la vasta estensione territoriale che vanta ma anche perché ricordiamo la stazione Irpinia nasce nel territorio di Ariano ma non è di certo di Ariano è di un intero comprensorio di un vasto territorio di cui Ariano è comune Capofila. Il lavoro che si sta facendo e che è importante è quello di mettere insieme delle esigenze e dei fabbisogni quindi partire da quello, da una visione integrata di sistema e poi passare quindi ai singoli progetti. Una visione per cui dinamica di un processo che deve essere messo in piedi di progettazione, di finanziamento e di realizzazione che quindi rappresenta un fondo di pensare nuovo e sicuramente importante per lo sviluppo e per la credibilità poi complessiva del territorio.